L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello fuori dalle mura del Camposanto di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, dove qualcuno ha pensato bene di creare una piccola discarica a cielo aperto, ma a questo punto sono davvero troppi gli episodi di inciviltà legati ai rifiuti. Andiamo con ordine. Sono tre gli episodi segnalatici dai cittadini del comune, dove da poco è stata introdotta la raccolta differenziata. Il 31 di marzo scorso a Pieve al Toppo, sotto il viadotto della E78, lo scenario era questo. Un cumulo di rifiuti vicino ai bidoni della indifferenziata, i pochi rimasti. Lo stesso giorno, dopo poche ore, la zona è stata per fortuna ripulita. Sempre a Pieve al Toppo un altro episodio, simile se vogliamo, ma stavolta una settimana dopo circa, e nei pressi, in questo caso, dei raccoglitori per la differenziata. Infine l'inciviltà che non ha rispetto nemmeno dei cari estinti. Vicino ai raccoglitori per la differenziata, nei pressi del Camposanto di Cigiano, sono stati abbandonati da giorni un frigo vecchio e una cospicua quantità di teloni, sembra, in PVC. Solo in civiltà o una ripicca degli irriducibili antagonisti della raccolta differenziata? Non lo sapremo mai. Di certo, un territorio bello come quello della Valdichiana non se lo merita. Speriamo che le autorità preposte si muovano al più presto per rimediare a questo brutto spettacolo.